E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo e fantastico video! Oggi ragazzi il video è piuttosto corto perché vi volevo solamente mostrare il mio disegno di Spike che ho fatto. Ho sbagliato solo un po' le misure qua di azessa. Spero che vi piaccia. Grazie per la visione. Ciao! Grazie a tutti!